Stamattina molti colleghi sindaci mi hanno affettuosamente detto che mi invidiavano per il fatto che la Coppa Davis si teneva a Napoli, mi hanno fatto i complimenti, erano contentissimi, è un servizio vergognoso, del resto ormai siamo abituati a questa informazione paludata, propagandistica, strumentale, non obiettiva, faziosa, che vuole solo danneggiare Napoli, colpire la città e colpire il paese, è una cosa che si commenta da sola, mi fa piacere che si scuota l'orgoglio dei napoletani e mi auguro che ci sia anche un giornalista al Tg1, come si diceva c'è un giudice a Berlino, speriamo che anche al Tg1 qualcuno si accorga di quello che sta accadendo nella nostra città, ma noi andiamo avanti lo stesso, non è che ci preoccupiamo qui di tanto del Tg1.